Alle 3.35 di questa notte dei malviventi hanno fatto esplodere ad Eboli con una bomba carta rudimentale il bancomat della Banca Popolare di Bari. Poi hanno forzato le porte della banca e sono entrate all'interno. La telecamera esterna è stata offuscata con dello spray. Sul posto anche i vigili del fuoco. Sul fatto di cronaca indagano i carabinieri agli ordini del capitano Luca Geminale. Sembra che il colpo si possa girare sui 90.000 euro. Ma ascoltiamo la direttrice della banca, la dottressa, candida Annichiarico. Alle 3.35 dovrebbe essere l'orario preciso. Ovviamente non si sa ancora la somma, è da verificare? È da verificare la somma, no. La somma non la sappiamo. I ladri hanno forzato le porte e poi sono entrate all'interno? Sì, hanno forzato le porte, sono entrate dalla porta di emergenza e hanno preso... Una telecamera è stata oscurata con dello spray? Sì, sì, sì. Solo una, poi ci sono le telecamere interne e si vedrà.